Mi ringrazio il Presidente del convegno e il Comitato direttivo per l'invito. Questa relazione si inserisce perfettamente a seguito della precedente perché parliamo un po' di quelli che sono i problemi delle microplastiche. Io ho il piacere di dividere questa relazione con la collega Masellis con la quale stiamo proprio finalizzando la stesura di una revisione sistematica a riguardo di questo argomento. Perché parlare di microplastiche? Guardate, io sono innamorato di questo argomento perché ho letto questi due libri. L'Oceano di Plastica che racconta la storia di come un comandante, uno skipper, non era un comandante, ma lui viaggiando si rende conto che siamo immersi nella plastica. E' quest'altro libro che parla di una nuova era, ovvero il plasticene. Io ho pensato subito, ma se la natura non ha fatto qualcosa, forse c'era un motivo. E il motivo è che, vedete, la plastica nasce nel 1950, è un derivato del petrolio e Life Magazine la osanna perché dice è iniziato il periodo di liberarci dalle faccende domestiche e la vita usa e getta. Siamo tutti più felici. Queste erano le immagini. La plastica è definita un prodotto miracoloso perché è leggero, maleabile, impermeabile. Il problema è che ne abbiamo troppa e oggi, semplicemente dopo 70 anni, ci troviamo sommersi dalla plastica. Vediamo il suo lato oscuro perché tutti gli ecosistemi, quelli terrestri, marini, settori economici chiave, quale il turismo, la pesca, sono sommersi da questo grande problema. Questa National Geographic, io vi invito tutti a leggerlo, è del 2018, fa vedere questo iceberg. Non è un iceberg, è una bussa di plastica perché alla fine questa plastica finisce prevalentemente nel mare. Vedete cosa ci dicono? L'abbiamo fatta, dipendiamo dalla plastica, ora ne siamo completamente sommersi. Qua vedete come, perdono, cercavo il pointer. Qui negli anni 70, vedete quanta plastica si produce? Vedete oggi. Vedete che incremento? E la maggior parte è per il packaging. Packaging vuol dire che lo userete solo una semplice volta, pochi secondi. La maggior parte viene dalla Cina, viene dall'Asia. Dovete sapere che solo un quinto di tutta la plastica che produciamo viene riciclato e dovete anche sapere che ci sono paesi come gli Stati Uniti nei quali si usa un sacchetto di plastica al giorno. E paesi molto più responsabili, qual è la Danimarca, che consumano quattro pacchetti di plastica. Poi capita l'anno. Dovremmo prendere esempio. La plastica, bevete la bottiglia di plastica, bevete in cinque minuti, la plastica rimarrà per 450 anni. Guardate queste immagini. Questa è una scimmietta che gioca con una bottiglia di plastica. Vengono vendute un milione di bottiglie di plastica ogni minuto. Dal 2015, 7 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica accumulate nelle discariche. Questo fotografo ha salvato questa cicogna perché stava soffocando, ma una volta che ha preso questa busta, quante buste uccideranno altre cicogna. È una busta, può uccidere più volte. È normale, secondo voi, che un granchio di Okinawa faccia la casa in un tappo di plastica e non più in una conchiglia? È normale che le iene non cacciano più, non stanno più dietro magari a quelli che sono i resti, ma si cibano andando a frugare nelle discariche stracolme di plastica? Questa tartaruga è stata salvata, sarebbe morta perché è imbrigliata nelle reti. Perché voi dovete sapere che le reti non serve più, non le ritirano più. È più difficile sbrogliarle, le abbandonano. Questo è un cavallino marino, un cavalluccio marino, che non viene più trascinato nelle correnti su alghe, bensì su croton fioc. Questo è quello che è trovato in un gabbiano. Il gabbiano vede luccicare, pensa che se un pesce si tuffa e mangia, mangia plastica, più di 250 pezzi di plastica all'interno di questo gabbiano. La plastica è ovunque, la plastica l'hanno trovata nel punto più alto, l'Everest, l'hanno trovata nel punto più basso, nella fossa delle Marianne. Vedete qui, plastica che sta a fondali bassissimi. Vedete, la plastica la producete in qualsiasi momento. Uscite di casa, prendete la macchina, producete microplastiche, vi lavate, vi volete sbiancare i denti, quelle microbeads che servono a sbiancare oppure a esfoliare, sono tutte microplastiche, vi vestite e rilasciate microplastiche. E guardate qui qual è il problema. Il problema principale è che quando questa plastica verrà rilasciata nell'ambiente, sotto quella che è la degradazione fisica, fotodegradazione, degradazione ossidativa, termica, biologica, idrolitica, queste plastiche si frammentano. Il problema è proprio questo, perché danno origine da una sola bottiglia di plastica, si fanno migliaia di microplastiche che vengono definite come plastiche che hanno un diametro da 5 mm a un micron e da ogni microplastica si fanno bilioni, bilioni di nanoplastiche che sono quelle che sono meno di un micron. E ognuna di queste che è piccola, vedete quanto molto più piccola di un granello di sabbia, molto più piccola di un capello, ognuno di questa che fa? Rilascia gli additivi che sono utilizzati per rendere questa plastica maleabile, utile allo scopo. E questi sono tutti interferenti endocrini, da una singola bottiglia di plastica a milioni e milioni di nanoplastiche. Tutto questo dove finisce? Nel mare. Nel mare dove quello skipper ha trovato isole di plastica, perché le correnti marine convergono in alcuni punti e fanno delle vere e proprie isole di plastica che navigano. Allora questa bottiglia buttata in acqua non è come la banana che durerà 5 settimane, la bottiglia dura 450 anni, la busta 20 anni, le reti 600 anni. E tutto questo è lì sul fondale. Fondale è mare che è il nutrimento dei pesci, perché in questo punto degli Hawaii, dove le correnti favoriscono l'accesso del plankton, che il primo nutrimento, vedete che succede? Succede che in mezzo al plankton c'è plastica. Questo autore ha preso 358 metri cubi di quest'acqua, semplicemente che ha diviso il plankton dalla plastica. C'è più plastica che plankton. E quindi si va avanti, perché vedete che succede? Succede che questo plankton, come mangia? spingendosi l'acqua all'interno del suo apparato digerente. Ma la plastica è questa colorata in verde. La plastica viene accumulata e i pesci più piccoli che mangia il plankton si accumula e il pesce più grande che mangia quello piccolo si accumula ancora di più. Vedete queste piccole acciughe? Queste scambiano anche loro pezzi di plastica e si nutrono di plastica. E quindi tutto il processo che sentivamo prima di biomagnificazione. Ecco perché da pediatri noi diciamo sempre mangiate il pesce piccolo, perché tanto più alto è nella catena alimentare, tanto più sarà bioaccumulato e biomagnificato. E così ci finisce nel piatto. E cosa dobbiamo sapere? Sapere che la microplastica ovunque, l'81% dell'acqua potabile ha 4 particelle di microplastica, beviamo la bottiglia? Ancora peggio se è di plastica. 94 particelle nel 93% dei prodotti. Riscaldiamo un biberon? Gli lasciamo 16 milioni di microplastiche. Beviamo il tè? 3 miliardi di microplastiche. Ci va bene se mangiamo frutti di mare? No. Neanche lo zucchero, neanche il miele, neanche l'alcol. Questo per dirvi che anche oggi che stiamo respirando ci stiamo prendendo circa 10 particelle di microplastiche per metro quadrato di aria. E quindi alla fine ci siamo presi circa 90-120 mila particelle di microplastiche all'anno. Cosa fa la differenza se beviamo acqua in bottiglie di plastica? Questo vi introduce la complessità dell'argomento che è qualcosa da cui non ci possiamo difendere, però possiamo limitare l'uso della plastica. Io ho diviso con la collega la presentazione perché la parte inerente a cosa fa questa plastica all'interno di noi, ve lo dirà la dottoressa Masellis. Grazie al professor Francavilla. Ora, qui in questa slide vediamo quali sono i principali veicoli attraverso i quali le nanoplastiche e le microplastiche entrano in contatto con il nostro organismo. La principale per entità è sicuramente l'ingestione con il cibo e con le bevande, come dicevamo prima. Ci sono numerosi studi che hanno dimostrato la presenza di nanoplastiche e microplastiche all'interno delle feci umane, il che evidenzia il fatto che effettivamente l'uomo stia ingerendo queste sostanze. La seconda via per entità è quella dell'inalazione con l'aria che respiriamo. Se consideriamo gli ambienti outdoor si tratta prevalentemente di aerosol proveniente da onde marine oceaniche e contaminato da fertilizzanti. Se parliamo invece degli ambienti indoor si tratta prevalentemente di nanoplastiche di derivazione dalla lavorazione di materiali tessili sintetici. Ciò che rende particolarmente efficiente questo tipo di penetrazione nel nostro organismo è il fatto che si abbia un'ampia superficie alveolare ma soprattutto il ridotto spessore alveolo capillare, molto più ridotto rispetto ad altri livelli del nostro organismo. Un'altra via è quella della penetrazione attraverso la cute, quindi l'esposizione cutanea. Sappiamo che la cute costituisce invece uno spessore importante ed idrofobico per cui potrebbe essere difficoltosa la penetrazione delle nanoplastiche a questo livello, però si è visto che invece tramite alterazioni di barriera, ferite, abrasioni, anche tramite i follicoli piliferi questa penetrazione è effettivamente possibile. Ora, a seconda delle dimensioni delle nanoplastiche e delle loro caratteristiche, cambia la modalità di passaggio di queste sostanze a transmembrana, per cui abbiamo dei pathway di tipo endocitico e dei pathway di tipo non endocitico. Per quanto riguarda i primi sono illustrati in questa immagine, si tratta di fagocitosi, micropinocitosi e endocitosi mediata da clatrina e caviolina. In questa slide mostriamo l'importantissimo processo di coronazione delle nanoplastiche. Queste, una volta in contatto con l'organismo, vengono contornate da molecole di origine biologica. Questo, da una parte, ha dei riscontri positivi in quanto ne aumenta la biodisponibilità, riduce l'adesività alle cellule, riduce la superficie di contatto, ma dall'altra può determinare un'alterazione della conformazione delle proteine, eventualmente rendendole immunogeniche e quindi favorendo dei fenomeni di tipo autoimmunitario. Allora, perché è particolarmente importante parlare di microplastiche e di nanoplastiche in pediatria? Perché si è visto che queste sostanze, proprio come altri xenobiotici, piombo, mercurio, pesticidi, farmaci, alcol, sono capaci di attraversare e di ritrovarsi a livello della placenta. Questo è un primo studio del 2021 che ha evidenziato proprio questo, cioè uno studio osservazionale che ha mostrato la presenza di microplastiche pigmentate a livello della placenta di quattro donne. Sono stati identificati dodici frammenti di microplastiche pigmentate. Quello che è particolarmente interessante è che tramite alcuni software prodotto, è restato possibile identificare con precisione questi microframmenti e quindi di capire anche da dove potessero provenire. In particolare, il frammento 1, l'idrossido di ferro, è presente anche, oltre che nei materiali plastici, anche a livello di alcuni cosmetici come i fondotinta e i BB cream. L'aftalocianina di rame, invece, è presente anche nelle tempere che usano i bambini, nelle tempere a mano. Il violentrone, inoltre, è presente addirittura in alcune fragranze. Quindi capiamo quanto sono, come diceva prima il professor Francavilla, quanto è comune ritrovare queste sostanze. L'autore dello stesso articolo ha, tra l'altro, scritto un libro dal titolo molto accattivante che vi invitiamo a leggere, che è Nati con la camicia di plastica. Ora, in pediatria sappiamo che esistono delle fasi di crescita che costituiscono delle finestre. A seconda degli stimoli che il bambino riceve durante queste finestre, queste possono diventare delle finestre di opportunità o delle finestre di vulnerabilità. Pensiamo allo sviluppo del sistema nervoso centrale, a partire dalla proliferazione cellulare, la migrazione dei neuroni, la formazione delle sinapsi e la mielinizzazione, che iniziano in epoca prenatale, ma si continuano lungamente nell'epoca postnatale. Un bambino piccolo ha una fisiologia differente, per cui è più vulnerabile agli agenti esterni. Da una parte la barriera ematoencefalica è più immatura, ma anche a livello intestinale abbiamo una barriera intestinale maggiormente permeabile per permettere un maggiore assorbimento, ma avviene un assorbimento maggiore anche degli xenobiotici. C'è un'immaturità anche dei sistemi di detossificazione a livello epatico e un'immaturità della funzione renale, che determina una riduzione della capacità escretrice delle stesse sostanze. Ora, il problema di tutto quello che è plastico è anche la presenza all'interno dei materiali plastici di addittivi, che da una parte migliorano le proprietà, la durata, l'elasticità di questo materiale estremamente diffuso, ma guardate il bisfenolo A, le resine possidiche, gli esteri diphtalati possono funzionare come interferenti endocrini, quindi imitando e bloccando la produzione, l'azione e la funzione degli ormoni nel corpo umano. Si vede come il bisfenolo A influisce anche sullo sviluppo del cervello nel grembo materno, causando danni al feto in via di sviluppo, mentre gli esteri diphtalati sono associati a uno sviluppo sessuale anormale. Ora, qui in questo slide mostriamo quali possono essere gli effetti di queste sostanze sia nel bambino che nell'adulto e vediamo come nel bambino possa essere associato a una riduzione del quotiente intellettivo, allo sviluppo di asma, di obesità. Nell'adulto ha disordini di tipo endocrinologico, quindi della tiroide, diabete, obesità, ma anche al cancro della prostata e della mammella e riduzione della conta spermatica nell'uomo. Questa slide mostra nel dettaglio quali possono essere gli effetti tossici di queste sostanze. Però un esempio particolarmente calzante è quello che ci offre la natura. Infatti consideriamo il caso del tributilstagno, che è un agente antivegetativo utilizzato sugli scafi delle navi, il quale viene rilasciato nell'acqua del mare. E si è visto che c'è stata una mascolinizzazione dei crostacei femmine in alcune colonie, appunto, esposte a queste sostanze. Questo avveniva con l'inibizione dell'attività dell'aromatasia endogena e quindi della soppressione della produzione dell'estradiolo e quindi appunto una mancata differenziazione sessuale che ha determinato l'estinzione di questa colonia. Ora, essendo esposti continuamente a sostanze chimiche disciolte in acqua, gli animali acquatici possono fungere da sentinelle per gli effetti tossici dei contaminanti, ma un feto che vive per nove mesi in un ambiente ristretto non potrebbe subire lo stesso tipo di aumento dei danni di queste sostanze. E' quello che si è chiesto questa giornalista in questo interessantissimo articolo pubblicato sul Times, quindi quello che, come i primi nove mesi di vita, determinano grossi cambiamenti poi nel futuro del bambino. In particolare qui abbiamo riportato uno studio pubblicato su Science recentemente nel quale sono state prese 6.000 donne, i donne hanno partecipato il 39% e sono state seguite queste coppie donna-bambino durante la crescita del bambino fino all'età prescolare. e si è vista un'associazione tra la presenza di alcuni metaboliti, di 20 metaboliti e 15 sostanze chimiche nelle urine delle donne, e si è vista l'associazione con un ritardo nello sviluppo del linguaggio nei bambini all'età di 30 mesi. Il mix comprendeva una serie di phtalati, bisfenolo A e composti per fluorourati. Per la prima volta gli organoidi del cervello umano, che sono delle sofisticate colture in vitro che riproducono aspetti salienti dello sviluppo del cervello umano, hanno permesso di sondare direttamente gli effetti molecolari del mix di sostanze sul tessuto celebrare umano, in fasi corrispondenti a quelle osservate durante la gravidanza. Studi sperimentali molto avanzati hanno scoperto i bersagli molecolari attraverso i quali i livelli critici di questo mix alterano la regolazione dei circuiti endocrini e dei geni convolti nell'autismo e nella disabilità intellettiva. Quindi il mix altera lo sviluppo dei neuroni tramite un'anomala regolazione dell'ormone tiroideo, che era uno dei principali bersagli coinvolti. Quindi se consideriamo che l'azione di queste sostanze tossiche ha un effetto a lungo termine, questo non potrà essere visto probabilmente in persone già adulte, ma se l'azione di queste sostanze inizia già dall'infanzia o addirittura dall'epoca prenotale, possiamo immaginare che i risultati si vedranno precocemente in pediatria. Quindi tutti questi studi ci mostrano come evidentemente il ruolo della plastica è un ruolo molto negativo e quindi sia nella natura che in pediatria questa è assolutamente da attenzionare. Grazie a tutti.